Ah, shite! Oh, guarda un po' tre stun ha! Oh! Knight! 8 secondi ha lo stun, quindi non possiamo far niente, a meno che non riesci ad rallentarlo! Aspetta, pronto? Sono senza... Ah! Iolo! Ero senza niente, però la passiva è stata buona, perché la passiva che togliamo HP in percentuale si è sentita! Eh, si! Allora, busciamo sta wave!